Ciao, sono Lucia Lombardi e questo è il mio punto vendita. Infatti, sono lo store manager del tuo center di Salerno. C'era una volta un regno, ma non era un regno come tutti gli altri, perché la sua regina era... No, fermi! Aspettate! So io chi può raccontarvi questa storia. Seguitemi! Mie piccoli amici, oggi vi parlo di Faba, un piccolo altoparlante, un magico racconta storie. Sapete come funziona? Grazie a Faba potrete volare sulle ali della fantasia con le vostre favole preferite insieme a vostri beniamini. Pinocchio, Elsa dal mondo di Frozen, Il re leone, La bella addormentata, Topo Tipo... Ogni mese troverete disponibili nuovi personaggi. Insomma, non vi resta che collezionarli tutti. Per ascoltare una storia è sufficiente appoggiare il personaggio scelto, il mio preferito è questo piccolo gurattino bugiardo, sulla scatoletta magica. Ed il gioco è fatto! Non dovete far altro che lasciarvi cullare dalla sua meravigliosa storia. Era una notte fredda e silenziosa, e il cielo risplendeva di stelle brillanti. Perché Faba è molto più che un racconta storie. Vi accompagna nel vostro mondo fantastico, pieno di avventure e nuovi amici. Stimola, in modo educativo e in modo nuovo, la creatività. È stato un piacere presentarvi il racconta storie Faba, con tutti i suoi personaggi. Il regalo perfetto per tutti i bambini. Non mi resta che mandare un grosso abbraccio a tutti voi e augurarvi tanti auguri di Buon Natale. Buon Natale! E adesso, per presentare il prossimo giocattolo, nomino Vittoria Caciotti, store manager del Toy Center di Firenze Quirico.